Aperte all'Università di Trieste le immatricolazioni per il prossimo anno accademico. Vediamo quali sono le offerte dell'Ateneo nel servizio di Andrea Romoli. L'Università di Trieste punta tutto sulla semplificazione e il diritto allo studio. Si sono aperte le immatricolazioni all'anno accademico 2016-2017 e da quest'anno sono stati aumentati i premi di merito per chi ha una votazione superiore a 95 punti all'esame di maturità e contemporaneamente la fascia di esenzione dalle tasse universitarie è stata estesa a tutti coloro che hanno un ISEE universitario inferiore a 23.000 euro. Questo senza che l'offerta didattica ne abbia risentito, visto che Trieste ha il ranking di valutazione tra i più alti d'Italia, come spiega Donata Vianelli, delegata del Rettore per quanto riguarda l'orientamento. Siamo i primi in Italia in tutto il gruppo sociopolitico, il gruppo linguistico, quindi interpretazione e traduzione e siamo anche primi in tutte le lauree scientifiche. Abbiamo Ingegneria che è seconda anche come ranking in Italia, abbiamo Giurisprudenza che è terza, il gruppo di Psicologia che sono quarti ed Economia quinto. Fra le novità accademiche è il nuovo corso di logopedia realizzato in collaborazione con l'Università di Udine. Rinnovato anche il corso magistrale in diplomazia e cooperazione internazionale, aperto nella sede distaccata di Gorizia. Un corso che intende formare diplomatici, funzionari internazionali, consulenti e operatori del settore della cooperazione.